A me è ritardato Non ho capito che hai detto? È crashato Joseph Ah, e come ti sento, bro? Ma l'ho crashato? Sì, ti è crashato anche il WDO Ah, ma ecco perché... Eh, bro, io ho sentito una cosa, ma che hai detto? No, ho detto, io qua c'ho tutto ritardato Gameplay, cioè, no gameplay, ma vedi Anime e tutto quanto Che? Detto la parola che non si può dire? Eh, bro, mi tocca cancellare il VOD Ma veramente? Bro, hai detto ritardato Bro, ma ho detto... Cioè, ritardato si intende... Eh, bro, ma è bannabile comunque Ma veramente? Eh, bro, sì, è come la N-Word Ma che dici? Ma veramente? Eh, bro, sì Ma non è riferito a una persona? Eh, bro, ma io... Però se dico ritardatario È la stessa cosa? Eh, no, ritardatario è un'altra cosa Bro, però hai dato del ritardato all'anime Cioè, comunque è fatto da persone Bro, ma no È decontestualizzato, quindi... No, bro, cioè Ma non è riferito alle persone Cioè, lo streaming... Dai, ragazzi, metteteci il carico Che cazzo di dire? No, non si può dire Che cazzo fai? Cioè, mi sembra... Non lo so, lo devi cancellare Eh, bro, mi tocca cancellare il VOD, sì Vabbè, dai, bro Ma veramente? Questa è una parola... Ma questa è una parola nuova No, bro Da sempre non si è mai potuto dire, eh Ma hai pittato il culo, veramente? No, bro, sono serio Ma che devo fare? Ma... Eh, l'ho detto pure tre volte Ce l'ho ripetuta pure Hai capito qual è il problema, Giuseppe? Bro, tu prima hai detto... Eh, mo... Sì, eh, boh, mo dobbiamo... Sì, mo finiamo il devo staccare Squalli, grazie per i sette Bro, tu perché hai detto... Hai detto la prima volta, hai detto... Prima di crashare hai detto Bro, io qua vedo ritardato Cioè, come se tu stessi dicendo O a me o al personaggio Vedo qua ritardato, capito? Ma no... Sì, vabbè, bro, ma... Cioè, voglio dire... Ma se sto dicendo un'altra cosa palesemente Questo è italiano, eh Vedo ritardato... Cioè, vedo questa cosa in questo modo Ma vedo questa cosa in questo modo Cioè, a cosa mi sto riferendo Vedo l'anime Cosa inanimata Cioè, no, in realtà è animato Però è comunque decontestualizzato, capito? Sì, vabbò, ma allora Qualsiasi cosa decontestualizzato Può essere preso così Cioè, se io dico Sei ammazzato Decontestualizzato Vuol dire che stiamo parlando Di una persona morta Veramente che si è ammazzata Mentre stiamo guardando la live Ma non è vero Scusa, e allora A cosa hai riferito quello che hai detto? È riferito... Allora, io qua vedo Parola Ragazzi, sente in colpissima Mi sto sentendo io in col... Lì si sta sentendo in colpa Mi sto riferendo Raga, non so che cazzo dire Senti, lo poverino Io vedo parola Cioè, io vedo lo streaming parola Di conseguenza Vuol dire che... Vedi lo streaming parola Ma che stai dicendo? Ma che vuol dire? Per non... Per non dire la parola con la R Ma tanto l'hai già detta, però Il mod lo devo comunque cancellare Quindi fammi capire Che stavi dicendo? Vedi la... Vedi il VOD? No, vedi la live? Che stavi dì? Non so se lo posso ripetere Però lo puoi ripetere Rando il VOD lo devo cancellare comunque Ma veramente? Eh sì No, non me lo fa ripetere Vabbè, allora non lo devo ripetere Però ma... Boh... Eh bro, stasera niente Purtroppo il VOD ragazzi mi dispiace Ma veramente? Eh bro, a questo punto ti cura la N-Word se vuoi No, non è vero Bro, stai trollando o fai sul serio? No, bro, faccio il serio Mi dispiace perché di solito ste live mi piace tenerle, capito? Perché... Vabbè, però Che devo fare? Oh, ma che ne so Io non pensavo... E poi se una volta sola magari potevo far fin dai niente Bro, ma le ripetero tre volte Bro, ma io... Sì, vabbè, ma... Cioè, questa parola non si può dire Anche se è riferita ad un oggetto È certo, perché... Perché, bro, è come la N-Word Allora, guarda, se io dico malato mentale Allora, bro, la N-Word Eh No, vabbè, la N-Word Allora, bro, se io ho un conto che io ti dico Non ha interpretazioni No, aspetta Perché se io dico malato mentale È un discorso Ma se uso la R-Word Bro, è come se io dessi un dispregiativo A quel problema lì Ma se è riferito a persone Bro, che devo fare? Anche se dico L'audio va in ritardo È lo stesso? No, perché, bro, vedi, c'è L'audio va in ritardo Capito? Non si parla di ritardo anche lì? Eh no, perché vuole il ritardo Tu hai detto proprio ritardato Capisci qual è il discorso? Ma comunque, bro, guarda Sinceramente Io non so voi come fate a streamare qua su Twitch Con questa paura Eh, bro Però penso non offendere anche la piattaforma, bro No Cioè, nel senso No, no, no È per dire Vabbè, però Cioè, questo è un danno proprio psicologico A una persona che viene fatto Cioè, se io ho il timore Eh, terrore Di dover dire una parola Bro, ma perdona Tu stai a pensare al danno psicologico, no? Ma il mio danno economico Chi ci pensa? Nessuno Vabbè, ma tu l'hai fatta La... Bro, allora Questa live, scusami Minimo 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 Cinque sabbele devi donare Ma scusami Ecco qua Si è abbonato lui Grazie Z Manu Grazie per il Prime, amore mio Grazie Grazie mille Ma comunque Cioè Io resto Resto colpito E quindi neanche le cinque sab? Vabbè Bro, se vuoi Io te le dono Ma mi sento in colpa Mi sento in colpa proprio male Ma non lo so Bro, se doni le cinque sab È tutto a posto Perché comunque alla fine La perdita del VOD È colmata Alla fine Ma cinque sab o quanto so? Scusami Ehm Venticinque euro? Cioè Praticamente Venticinque euro Tu appari Il VOD cancellato? Sì Ma in realtà A me ne arrivano dodici Forse di euro Ma anche Cosina meno forse Ma veramente? Eh sì Eh bro Te li mando su Paypal Stiamo a posto Vabbè Mandameli su Paypal Scusa A parità di cifra Senti domanda 25 Vabbè però Le dono a loro Vabbè Eh vabbè No no Vai su Paypal No vabbè A quel punto Le dono Faccio conto di ragazzi Vabbè ma quindi L'audio lo senti bene O lo senti ancora ritardato? Tanto oramai Il VOD è andato Lo puoi dire Ma allora Ma domanda per curiosità Ma tu più ripeti la frase Più non è grave la situazione Eh no In realtà Dopo dieci volte Che la dici Hai il bonus Per poter poi Stare a posto Cioè quindi Se la Cazzo dici bro Cioè se la dici Più volte sei a posto Non c'è più problema Ma come cazzo Fa a crederci Bro sì Che cazzo significa? Ma come Ragazzi è male Allora Se dici la N word Alla decima volta No Quella è un po' No no Quella è più diversa Perché è subito Bannabile Capito? Quindi questo Se la dici dieci volte È risolto? Bravo 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 Questo è una cazzo Da qua ho capito Che mi stai trollando No bro Siamo a cinque Cioè E io me la dico Altre cinque volte E abbiamo risolto Per quello io ti sto Ti sto cercando di far Perché così è contestualizzato Capito? Lo diciamo Altre cinque volte Ma è contestualizzato Qua proprio ti sei tradito Questa è proprio una cacata Non ci posso mai credere A cosa? A questo fatto Che se la dico Altre cinque volte Tu non c'hai problema Bro ma se ti sto dicendo Ma tu lo senti ancora ritarda Va bene Mancano quattro Tu lo senti ancora ritardato L'audio Ne mancano tre Ah bro ma non si può parlare Non si può parlare con qualcuno Cioè voglio dire Devo parlare con qualcuno Cioè mi devo stare a smazzare Per parlare con qualcuno Per un bod che mi hai fatto volare Ma no Non dire così Mi fai senti in colpa Capito bro Se conosci qualcuno Con cui parlare Bro Parliamoci No Vabbè Non lo conosco Bro Twitch L'ultima volta Che ho fatto la live L'ultimo Boh Cioè non sto nel giro Eh bro È probabile che iscrivi Allora ti bannano Per te Fai un'auto Cioè come dire Dici ho detto questo Bene Ti banniamo Bene Bravo esatto E che altre parole Non si possono dire Ah no Non si possono dire Eh Ma Nel dubbio Ma guarda bro Stasera bro Faccio Chiudere le baracche Purattini E si va a vendere Il cocco In spiagge Bro Se vuoi ti faccio Un elenco Delle parole Che non si possono dire Te vuoi eh Le vuoi dire Come vuoi bro Se vuoi ti faccio Un elenco E se vuoi le ripeti poi Ce l'abbiamo già Un copposto già Ma vabbè ragazzi Lo dico alla fine Control Lo faccio Lo faccio De un buon qui in colpa Vedi che mo non parla Perché c'è paura Di quello che dice Ma che cazzo Sta dicendo Ma cosa Bro Mi è arrivata La mail di Twitch No Boh Però non ci credo Bro A causa Di una situazione Frodolenta Il tuo account Conte è sospeso Per 24 ore Frodolenta Ma questo è per Qualc'altra cosa Che hai fatto tu Scusami Frodolenta Questo dovrebbero dirti Per Per Utilizzo Di parole Non ammisse Frodolenta Hai fatto tu Qualche pezzo Qua mi Mi ritiro No bro Perché c'è la data Proprio di oggi E che ho fatto oggi Io Ma poi guardatelo La faccia Guardatelo La faccia È distrutta Di un uomo Che sa di aver fatto Bannare Capisco Ma tutto questo Non è sufficiente A vincere una partita Bro Mette d'accordo 700 persone Non so quanto Possa essere fattibile La politica di Twitch È così Mi disiscrivo al canale Ma che succede Ecco Una detta è fake Sta mentendo Bro Andiamo avanti Uno dice mi dispiace Boh Non si capisce Quale è la verità Niente live domani E allora fai così Fammi vedere la mail Che hai ricevuto Bro Mo stai live Non penso Di poterti far vedere La mail Ma broschi Se è vero Io Faccio un atto Di ribellione Eh bro Che devo dirti Io Io purtroppo Sinceramente Allora io Devo essere sincero Penso che mi stia trollando Ok Non è possibile Che per una frase Del genere Cioè io ero rimasto Alla N World Poi mi ricordo Che poi non sto nel giro Troppo di Twitch Quindi Però io sono un tipo Che di solito Sta attento a quello Che dice Ma questa cosa Mi sembra Un po' strana Cioè Non l'ho detto Riferito a una persona Io penso Che mi stai trollando Ci resto male Guardami Mi esco dalla live Senza salutare Io te lo dico Per cosa? Mi dimostri che è vero Mi stai facendo rimanere molto male Se è vero Io me ne vado Cioè se è vero Se è vero Che sono bannato No Se mi stai prendendo in giro Io stacco tutto E me ne vado Un saluto E me ne vado via Cioè Mi piglio a male O è vero Oppure Qua finisce male Allora bro Ti devo dire Che in realtà Non era vero No Vabbè Mi hai trollato Eh? Mi hai trollato No Non è trollato Bro Non è trollato In realtà È È Come si dice È Uno scherzo Nel senso Vabbè Però E lo Ma raga Ma Se n'è andato Raga Ma Ma ragazzi Ma a parte Dai mo Partiamoci chiaro Come cazzo facevi A credere Una roba del genere Era di per sé Già infattibile Ma lo scherzo È bello Quando dura poco Ho capito Raga Ma i video su youtube Sono da 8 minuti Cioè Se lo scherzo Dura poco Non lo monetizzo Madonna Raga Un attimo Ho avuto paura Che dicesse L'aneworld Per davvero Vi dico la verità Sto provando a chiamare Ma appena Mi rica Se risponde Sono già in chiamata Mi senti Sì Però Ti devo dire Pensavo che A Mettendotela in maniera Diversa Non ci fosse Non ci fosse motivo Di dire Uno scherzo Perché Era Capibile Credo Ma io Non conosco Le 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 politiche di Twitch Sì Le Le politiche di Twitch Eh Pro Quindi Mi hai fatto Mi hai fatto sentire In colpa Di una cosa Che non è vera Capito Brother Capisco il fatto Di sentirsi in colpa Ed è una cosa giusta E lecita Però Ecco Diciamo che Con Cinque sub Si Appianava tutto Capito Quindi con i soldi Si Sparava tutto Si Questa era la nostra amicizia Non è questa la nostra amicizia Però È risaputo che tu Stia messo meglio di me E quindi Non vedo perché tu Non debba Lo so Dare Qualcosa Un supporto Un aiuto Carità Beneficenza Bro A me dispiace Che te la prendi Così No No È una cosa Che mi ha fatto male Io adesso Guarda Riconnetto il grid Fammi per farti vedere Cioè Proprio la mia situazione attuale Perché forse Secondo me Non hai capito l'entità Di quello che è successo Capisco Quindi A questo punto Anzi Non so nemmeno se è il caso Di farmi vedere davanti A centinaia di persone In queste condizioni 600 Nella precisione Ecco Ecco 600 persone Farmi vedere in questo modo Io non lo so se è il caso Se Senza contegno Ecco Però io Ho sempre messo La sincerità Davanti a tutto Bro ma non è che ti viene in mente Di attivare la cam Mentre c'è il pisello di fuori Bro mi fai bannare per davvero eh Non scendo a questi livelli Anzi Anzi Vedrai Molto molto peggio In sincerità Perché penso che La vista di un amico In certe condizioni Dovrebbe Fare Fare male al cuore Mi sembra Di te Adesso stia un po' Esagerando La cosa Nel senso Beh Vuoi dire E' uno scherzo E poi è uno scherzo In cui ti sei tirato Tu stesso Dentro Bro E' uno scherzo Io pensavo Tu facessi sul serio Ma no Penso Si sono Resi Si sono Resi conto Tutti quanti Che io Non riuscivo più A Guardare Inazuma Mi sono zittito Non parli Non sai che dire No No Però non è che Non è che posso dire Cose A questo punto Io è arrivato Il momento Di farmi vedere Perché devono Vedere tutti Quello che mi hai fatto Devono vedere La mia faccia La madonna È quello che ti ho fatto Vai Si 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 Vediamo Quindi se io attivo Mi vedono subito Così Devo stare pronto Psicologicamente Si Vabbè E allora a questo punto E' quello che io devo fare Perché io sono sempre Per la verità E per quello che sono E allora mi farò vedere così Certo Eccomi qua In questa condizione Mi vedono Mi vedono così Complimenti 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 Beh direi davvero Complimenti Che Co Grazie per la visione!